C'è da dire però che numerose sono le differenze fra la democrazia ateniese e le democrazie occidentali moderne. Vediamo allora quali sono innanzitutto i caratteri della democrazia ateniese. Come abbiamo detto, la partecipazione alla vita politica non era più subordinata a un diritto di nascita o legata al censo, ma il diritto era quello di cittadinanza. Ti ricordo che all'epoca di Clistene non si parlava ancora di democrazia, che è una parola che venne coniata più tardi, semmai il termine era isonomia, vale a dire l'eguaglianza giuridica, perché tutti erano uguali di fronte alla legge, e anche politica, perché tutti potevano eleggere ed essere eletti. Alla base di questo c'era l'elemento fondamentale in tutte le poleis greche della libertà individuale e collettiva. All'interno dell'ecclesia ciascuno aveva diritto di parola, di presentare delle emozioni. Il voto era pubblico e individuale. L'assemblea, come ti ho detto, esercitava una funzione di controllo sull'attività delle magistrature, le quali venivano assegnate per sorteggio, tranne, come abbiamo detto, gli strateghi militari e gli arconti, perché queste erano funzioni che necessitavano di precise competenze che non tutti i cittadini avevano. Il criterio della rotazione impediva poi, come abbiamo detto, la nascita di gruppi egemoni.